Buongiorno a tutte e tutti. Questo è il quarto video del corso di armonia musicale. Il corso completo viene caricato progressivamente sulla piattaforma Patreon. La particolarità di questo corso sta nel fatto che, oltre alle spiegazioni teoriche, vengono svolti gli esercizi pratici. Quando propongo un esercizio puoi fermare il video, provare a svolgere gli esercizi e poi confrontarti con lo svolgimento proposto da me. Ho dedicato i primi tre video del corso ad una introduzione teorica nella quale ho trattato la scala diatonica maggiore e minore, gli intervalli e il circolo delle quinte. Questi tre video si possono vedere gratuitamente su YouTube all'indirizzo Nicola Sfredda. Con questo quarto video inizio la produzione di esercizi svolti tratti dal celebre manuale del piston, armonia, nel video che propongo oggi svolgerò alcuni esercizi tratti dal capitolo 1, pagine 10 e 11. Si tratta di esercizi che riguardano gli argomenti da me trattati nei miei video precedenti. Ti consiglio di riguardare i miei video se hai qualche dubbio, poi passa a svolgere gli esercizi con l'aiuto di questo video e dei prossimi. ovviamente non svolgo tutti gli esercizi proposti dal piston che sono numerosissimi. Ne eseguo alcuni per dare l'avvio alla tua esercitazione diretta. Se vuoi aderendo alla piattaforma Patreon al secondo livello, All Access Patreons, puoi mandarmi i tuoi esercizi svolti per ricevere il mio commento e le mie eventuali correzioni. Bene, iniziamo. La consegna del numero 1, l'esercizio numero 1 è questa, denominare i seguenti intervalli. Svolgiamo gli esercizi. Come si chiama questo intervallo? Do sol diesis in chiave di basso. Il nome delle note va sempre indicato dal basso verso l'alto, procedendo dal basso verso l'alto, quindi Do sol diesis. Ferma il video e prova a rispondere, poi verifica la risposta. Per rispondere ricorda la regola, fai riferimento alla nota più grave e considera la tonica di una scala maggiore. In questo caso saremo dunque in Do maggiore. L'intervallo Do sol è un intervallo di quinta, quinta giusta. Siccome il sol è alzato di un semitono, l'intervallo Do sol diesis è un intervallo di quinta aumentata. Un altro esempio, come si chiama questo intervallo? Mi fa. Ferma il video e prova a rispondere, poi verifica la risposta. Per rispondere ricorda la regola, fai riferimento alla nota più grave e considera la tonica di una scala maggiore. In questo caso saremo dunque in Mi maggiore. Mi, fa diesis, sol diesis, la, si, do diesis, re diesis, mi. I diesis sono indicati accanto alla chiave. L'intervallo Mi fa diesis è una seconda maggiore. L'esercizio si propone all'intervallo Mi fa naturale. Ricordiamo allora la regola. Riducendo la distanza di un semitono, l'intervallo maggiore diventa minore. Quindi l'intervallo Mi fa è una seconda minore. Come si chiama questo intervallo? Sol fa diesis. Ferma il video e prova a rispondere, poi verifica la risposta. Per rispondere ricorda la regola. Fai riferimento alla nota più grave e considera la come tonica. In questo caso saremo dunque in Sol maggiore. Sol, la, si, do, re, mi, fa diesis. In Sol maggiore abbiamo il fa diesis in chiave. Quindi l'intervallo Sol fa diesis è una settima maggiore. Per esempio, come si chiama questo intervallo? Si fa. Ferma il video e prova a rispondere, poi verifica la risposta. Per rispondere ricorda la regola. Fai riferimento alla nota più grave e considerala come tonica. In questo caso saremo dunque in Si maggiore. Si, do diesis, re diesis, mi, fa diesis, eccetera. Se il fa fosse diesis, quindi l'intervallo Si fa diesis sarebbe una quinta giusta. Siccome però nell'esercizio proposto il fa è naturale, dunque abbassato di un semitono rispetto al fa diesis, l'intervallo giusto diventa diminuito. L'intervallo Si fa è dunque una quinta diminuita. Ancora un altro esempio. Intervallo Re Sol. Ferma il video e prova a rispondere, poi verifica la risposta. Per rispondere ricorda la regola. Fai riferimento alla nota più grave e considerala come tonica. In questo caso saremo dunque in Re maggiore. Re, Mi, Fa, diesis, Sol, eccetera. Siccome Sol è una nota della scala, l'intervallo Re Sol è una quarta giusta. Prosegui con l'esercizio 1 di pagina 10. Ci sono moltissimi altri casi. Oppure, anche se non hai il libro di Piston, puoi inventare qualsiasi combinazione degli intervalli. Anche molto aperti, come ad esempio questo, Sol diesis, in chiave di basso, e là, addirittura tre ottave sopra, in chiave di violino. Fammi le tue soluzioni aderendo alla piattaforma Patreon al secondo livello, All Access Patreons. Adesso propongo il secondo esercizio, sempre dal capitolo 1 del Piston. Come si formano gli intervalli a partire da una nota data? La consegna è questa. A partire dal Fa diesis, come nota inferiore, si forma il seguente intervallo, terza minore. Ferma il video e prova a rispondere. Poi verifica la risposta. Costruiamo innanzitutto la nostra scala di Fa diesis maggiore. Fa diesis, Sol diesis, La diesis, Si, Do diesis, Re diesis, Mi diesis, Fa diesis. È la scala che ha 6 diesis in chiave. L'intervallo Fa diesis, La diesis è una terza maggiore. Perciò per ottenere una terza minore dovremo abbassare il suono superiore di mezzo tono. L'intervallo sarà perciò Fa diesis, La naturale. Adesso un'altra consegna. A partire dal Fa diesis come nota inferiore si forma il seguente intervallo, sesta eccedente. A partire dal Fa diesis, formare una sesta eccedente. Ferma il video e prova a rispondere. Poi verifica la risposta. L'intervallo Fa diesis, Re diesis è una sesta maggiore. Perciò per ottenere una sesta eccedente dovremo alzare il suono superiore di mezzo tono. L'intervallo sarà perciò Fa diesis, Re doppio diesis. Ricordiamo che sulla tastiera del pianoforte il Re doppio diesis coincide con il tasto del Mi. Però dal punto di vista teologico si tratta di due suoni diversi. Un altro esercizio. A partire dal Fa diesis come nota inferiore si forma il seguente intervallo. Quinta diminuita. Ferma il video e prova a rispondere. Poi verifica la risposta. L'intervallo Fa diesis, Do diesis è una quinta giusta. Perciò per ottenere una quinta diminuita dovremo abbassare il suono superiore di mezzo tono. L'intervallo sarà perciò Fa diesis, Dove quadro. Lo segui ora tu con lo svolgimento dei successivi esercizi o anche con esercizi di prevenzione. Bene, abbiamo terminato questa esercitazione guidata. Arrivederci al prossimo video dove svolgerò ulteriori esercizi tratti dal primo capitolo di Piston, sempre riguardanti gli argomenti finora studiati, la scala diatronica, gli intervalli, il circolo. Inoltre preparerò ulteriori video per la spiegazione dei successivi argomenti. Proverai tutto questo materiale sulla piattaforma Patreon al secondo livello, All Access Patrons. Un caro saluto dal Maestro Sfrelde.